Adesso stiamo a Poligno, la provincia di Poligno, perché fa provincia, lo sindaco e tutto quanto. Guardate le palazzine, quell'usseria ci sta in giro di ogni tipo e genere, guardate. Guardate che l'usseria di ogni tipo e genere ci sta in giro, Poligno, quello grano tenero stavolta Poligno, qui si manca l'ombra ai coscinetti, tante volte si rompe in coscinetto con la piede che dico, ma serve in coscinetto, mi fanno anche in coscinetto. Allora, un bel potere, ecco. Grazie a tutti.